Per il terzo centenario della nascita di Quirino Gasparini avete portato avanti un lavoro di ricerca, contatti con diverse città d'Europa che hanno consentito di ritrovare e portare a Gandino che cosa? Allora, manoscritti importantissimi di Quirino Gasparini, stampe perché ha avuto anche una produzione a stampa e materiali, documenti, soprattutto cataloghi e articoli di studio anche di riviste di nicchia o comunque non più pubblicate, per cui è stata difficoltosa il recupero del materiale, dalle biblioteche d'Italia per quanto riguarda i manoscritti e dalle biblioteche di mezz'Europa, da Berlino a Cracovia, il ritrovamento più importante, a Salisburgo, direttamente al Mozarteum, ma anche a Bruxelles e a Londra. Si tratta di materiale di Quirino Gasparini ma anche di Mozart perché un suo autografo, un mottetto di Gasparini, la Dora Musti, è stato copiato da Mozart e questo manoscritto è arrivato sia a Salisburgo, nell'archivio dell'Arcidiocesi, che a Cracovia, alla biblioteca jagellonica. Si tratta di documenti importanti che tracciano l'importanza che aveva Gasparini e della considerazione di cui ha goduto all'epoca. C'è stato anche tutto un percorso che riguarda una sua opera, la Dora Mustè. Esatto, è un mottetto famosissimo, conosciuto tutto il mondo anche per la sua bellezza innanzitutto e anche per quell'errore per cui finì nel catalogo delle opere di Mozart. E quindi un lavoro di ricerca è stato anche quello parallelo allo studio di Gasparini e anche a cercare le opere di Mozart e i documenti che testimoniano la comparsa in questo catalogo. Quindi abbiamo ritrovato a Londra la prima edizione del 1862 del catalogo Kögel in cui tranquillamente compare la Dora Mustè di Gasparini come attribuito realmente a Mozart e senza nessun dubbio sull'autenticità. Ma abbiamo anche recuperato l'articolo del 1922 del maestro di cappella di Salzburgo, Hermann Spies, che è importantissimo perché costituisce una data spartiacque nell'attribuzione di questo mottetto da Mozart in realtà a Gasparini. Ma essendo pubblicato su una rivista assolutamente di nicchia e di area germanica in Italia non c'è traccia, non è presente alcuna copia. E quindi anche qui attraverso una libreria antiquaria siamo andati a ritrovare quasi per caso una rivista del 1922. Sarà un anno di appuntamenti per ricordare i 300 anni dalla nascita di Quirino Gasparini, il primo è ormai vicino. Il primo concerto è alla vigilia del Corpus Domini. Abbiamo creato un calendario di eventi musicali, culturali che comprendono anche delle conferenze, una mostra e soprattutto concerti ovviamente. Sono legati a esperienze di fede della comunità di Gandino. Infatti il primo concerto è alla vigilia del Corpus Domini. Quindi sabato 5 giugno alle 20.45 nella Basilica di Gandino. Abbiamo un concerto strumentale ad opera del Gasparini Ensemble, un trio d'archi e clavicembalo, che presenterà la produzione strumentale di tri e sonate di Quirino Gasparini e di altri membri dell'Accademia Filarmonica di Bologna in un viaggio nella musica per arco del 6-700.